Buonasera e bentornati a Flash News, l'appuntamento quotidiano con l'informazione sui canali di Per Sempre News. Iniziamo il notiziario di oggi parlando di un nuovo sbarco a Lampedusa. Questa notte sono giunti altri 133 migrati. Sei barchini sono stati soccorsi lungo l'isola mentre il settimo è arrivato in autonomia sulla spiaggia. A bordo 58 bengalesi, egiziani e pakistani partiti da Zahra, in Libia. Erano dalle 33 a un massimo di 57 persone, gambiani, nigeriani, senegalesi, guineani, malesi e ivoriani, nei vari barchini, fermati dalla Guardia di Finanza e la Guardia Costiera. Presenti anche bambini e donne. A seguito del triage sanitari, sono stati portati hotspot di contrada in Briacola, gestito dalla Croce Rossa, in cui risiedono altri migrati. In totale sono 1.215 persone. Passiamo ora alla chiusa dell'ambasciata israeliana a Roma per timore di attacchi. Dopo il raid contro il consolato iraniano a Damasco. I vertici militari israeliani sono pronti ad affrontare qualsiasi scenario, mentre si intensificano le misure di sicurezza per proteggere le infrastrutture del paese. Si valutano diversi scenari di possibili rappresaglie, compresi attacchi di droni o missili da parte dell'Iran, attacchi missilistici attraverso Hezbollah e altre milizie sciite, o attentati contro le ambasciate israeliane. La situazione rimane tesa. Con Israele in stato di allerta massima e pronta a reagire ad ogni minaccia che possa mettere in pericolo la sicurezza del paese. Passiamo a quanto avvenuto ad Ostia. Una 46enne è morta dopo una caduta dal balcone. La tragedia si è consumata all'alba di giovedì 4 aprile a Ostia, sul litorale romano, dove una donna italo-brasiliana di 46 anni è precipitata dal quarto piano di una palazzina. Il compagno, un 41enne romeno è stato fermato dalla polizia perché sospettato di omicidio. Il fatto è avvenuto attorno alle ore 5 di ieri mattina in via Fasan 38, all'interno di un edificio in parte occupato abusivamente da stranieri. La polizia, intervenuta sul posto, ha trovato in strada il corpo senza vita della 46enne, identificata come Angelina Cristina Suarez de Susa. Inizialmente gli agenti hanno ipotizzato che si trattasse di un suicidio, ma poi lo scenario è cambiato. Sulla scorta degli elementi raccolti, tra cui l'esito delle prime osservazioni medico-legali. Gli investigatori della sezione omicidi della squadra mobile, assieme ai colleghi del commissariato di Ostia, hanno escluso l'ipotesi del gesto volontario. Probabilmente la donna si esporta oltre la ringhiera per sfuggire al compagno durante una colluttazione. Oppure potrebbe essere stato proprio l'uomo a spingerla di sotto. A insospettire gli agenti è stata la posizione anomala del corpo che si presentava con le spalle a terra, solitamente nei casi di suicidio è il contrario. Successivamente sono stati gli abitanti del palazzo, in parte occupato, a raccontare come la coppia litigava continuamente, anche in modo violento, e che spesso le discussioni vertevano attorno allo stupefacente di cui entrambi facevano notoriamente uso. L'uomo, che è sospettato di aver spinto la compagna giù dalla finestra al culmine di un litigio, non si è allontanato dall'immobile e ascoltato immediatamente dopo il ritrovamento del corpo ha respinto ogni addebito. Raccontando come la donna avesse problemi psichici e si fosse semplicemente tolta la vita. Poche ore dopo gli agenti sono tornati a bussare alla sua porta per trarlo in arresto. Sia l'uomo arrestato che la probabile vittima di omicidio sono ben conosciuti alle forze dell'ordine, con numerosi precedenti e segnalazioni, legati soprattutto all'uso di stupefacenti. Queste erano le notizie di oggi. Vi ricordiamo che il prossimo appuntamento con Flash News sarà lunedì. Sempre sui canali di Per Sempre News. Buona serata.